La Turris esce sconfitta dal Liguori contro un esperto Avellino. Giornata piovosa e terreno di gioco scivoloso rendono difficile giocare a calcio con le due formazioni schierate col 3-4-3. Inizio gara con un'occasione per parte, al secondo minuto esempio salva su tiro sotto misura dell'esterno Irpino Ciancio, mentre al quinto gol ha annullato la Turris per fuori gioco di Leonetti ben servito da Giannone. Al diciannovesimo la Turris passa in vantaggio con una giocata del solito Giannone che serve in orizzontale Tascone al limite dell'aria che scaglia un tiro preciso alla destra del portiere Irpino, forte, ed è 1-0. Al ventitresimo arriva subito il pareggio dell'Avellino grazie ad un'azione sulla destra di Ciancio che serve in aria d'Angelo Abia inserissi e con una semi rovesciata mette alle spalle dell'incolpevole Perina, 1-1. Al ventinesesimo altra azione di marca ospite, sui sviluppi di un corner il difensore Silvestri di testa colpisce la traversa. Al trentunesimo Avellino passa in vantaggio con Di Gaudio, abile a sfruttare una cattiva lettura difensiva Corallina e su filo del fuorigioco infila la difesa e supera l'estremo difensore Perina per il sorpasso ospite, 1-2. Il primo tempo termina con i Corallini in difficoltà su un terreno di gioco pesante, ma soprattutto grazie ad un Avellino fisico e nella qualità dei singoli. Nella ripresa la Turris si affida a Giannone, unico ad accendere la luce e creare pericoli come al cinquantasettesimo quando supera due avversari nella trequartia ospite e serve un assist per Finardi che è solo davanti al portiere del Pino finta il tiro ma si allunga la palla e viene raggiunto dai difensori avversari. La partita scorre con un Avellino batteriore esperto lasciando solo qualche sortita offensiva Corallina, ma la partita termina con una sconfitta interna per una Turris pur sempre rivelazione di questa prima parte di campionato. Domenica la Turris sarà impegnata in trasferta a Viviani di Potenza per riprendere il suo cammino.